Vuoi sapere qual è il trucco che usa Emiliano Martinez per far sbagliare i rigori ai suoi avversari? Dopo le decisive parate contro Olanda e Francia, un giornalista gli ha chiesto quale fosse il suo segreto per parare i rigori. Martinez ha rivelato che quando un giocatore si avvicina per tirare un rigore, lui osserva il suo linguaggio del corpo. Se lo vede poco sicuro di sé, cerca di provocarlo per farlo sentire ancora meno sicuro, facendogli sbagliare il rigore. Ma se il giocatore sembra sicuro, non lo provoca, ben si studia attentamente i suoi movimenti degli occhi per prevedere dove andrà la palla e per riuscire a parare il rigore.